Questo libro, impronta concettuale, installazioni e arti volontarie, in volontaria Casa Museo Sottolettina, ci è raffigurato il progetto di questa casa, nato dal 2003. L'arte concettuale che diventa visione futura, quindi che una volta fatta nel 2005, rappresenta una tavola apparecchiata, con attenzione di attenzione di attenzione di tipo. Nel 2011 parte la primavera cosiddetta araba, i 247 giorni di rivoluzione. Nel 2007 creò questa televisione con una gabbia all'interno, senza parole. Nel 2005 il caos. E poi si va a sfociare nel 2009, il sentimento in tasca. Nel 2009 si va a sfociare con l'impronta Londra, Parigi, non dividete questo suono. Posso dire che sono 120 pagine sentite, sosperte, molto contenuto poetico, soprattutto in ogni diritto, e così come fare un breve viaggio che ci porta nell'interiorità. Impronta concettuale, installazioni arte e involontaria. Grazie.